L'ospedale di comunità di Morbegno è il primo che attiviamo sul territorio e rappresenta un modello che rivelerà presto la sua importanza quale struttura intermedia tra la cura domiciliare e il ricovero ospedaliero, in quanto fornisce un aiuto concreto ai pazienti e alle loro famiglie. Le parole sono quelle del direttore generale di ASST Monica Fumagalli e la data a partire dalla quale l'ospedale sarà operativo è quella di lunedì 17 giugno. Ubicata al secondo piano del padiglione Mattei Vanoni del presidio di Via Morelli, è una struttura sanitaria di ricovero destinata ad agenze brevi per pazienti che necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica, per i quali vengono definiti percorsi di cura personalizzati e condivisi. Dispone di otto camere, sette doppie, una singola, tutte con bagno, per un totale di 15 posti letto. Sono garantite un'assistenza infermieristica 24 ore su 24, sette giorni su sette, con il supporto degli operatori sociosanitari e un'assistenza medica per quattro ore e mezza al giorno e pronta a disponibilità nelle ore notturne, nei prefestivi e nei festivi. Sin dal nostro insediamento, aggiunto Fumagalli, ci siamo impegnati per trovare una soluzione alla carenza di personale che ne impediva l'apertura. Grazie a concorsi e avvisi siamo riusciti a reclutare i medici e gli infermieri, completando l'organico e rendendo possibile l'attivazione del servizio. L'equip è composta da cinque medici, da infermieri e operatori sociosanitari. L'offerta sanitaria territoriale si arricchisce con l'ospedale di comunità, aggiunto il direttore sociosanitario Roberta Trapletti, andando a completare la filiera del supporto domiciliare, diurno e residenziale, già previsto in ambito sociosanitario, per accompagnare la risposta di rete all'evoluzione naturale del bisogno lungo il ciclo di vita della persona.